Il problema delle critiche che Platone fa alla democrazia in verità riguardano la guerra del Peloponneso, attenzione, cioè se la guerra del Peloponneso non ci fosse stata, Platone non avrebbe fatto quelle determinate critiche alla democrazia. In fin dei conti Platone è segnato tantissimo rispetto al suo periodo storico. Certo si potrebbe modernizzando parlare di populismo, in certo qual modo ha senso parlare di populismo all'interno di quel periodo storico, però appunto ha senso perché? Perché in realtà la realtà atenese è una realtà particolare, partiamo dalle premesse. In realtà atenese vedeva in fin dei conti che tutti a un certo punto, come maschi adulti, potevano tentare in potenza di partecipare alla vita politica. Lo stesso Pelichel sulla base della riforma dei nullatenenti cercò di aiutare in questo senso, cioè il nullatenente mi può partecipare alla difesa del territorio perché può permettersi di appunto servire per la difesa del territorio sulle navi come rematore. Già che dunque può fare questo, può magari in certo qual modo sulla base anche di una paga giornaliera nel momento di guerra permettersi poi anche di partecipare alla vita politica. Questo primo punto, poi c'è il punto di Pericle, per esempio il punto di Pericle che limitò anche la cittadinanza, ma il tema della limitazione della cittadinanza riguarda appunto il tema del fatto che tuttavia nella democrazia atenese c'era sempre questa metodologia di limitazione della cittadinanza. Cioè non è che si può dire no, è colpa di Pericle in tutto e per tutto, perché attenzione, perché Pericle limita la cittadinanza? Dobbiamo sempre, non dobbiamo mai dimenticarci che la cittadinanza atenese veniva in certo qual modo sempre limitata quando la popolazione aumentava o allo stesso tempo c'erano meno barriere per avere, per acquisire la cittadinanza quando la popolazione atenese diminuiva. Ecco perché Pericle in questo senso è molto rigido sul tema della riforma, cioè non è mai di dimenticare il realismo giuridico che sta alla base. Intendo appunto quindi il diritto inteso come diritto atenese, perché c'era, certo Atene non aveva i giure consulti romani, quelli che codificano il diritto, quelli che ragionano sul diritto, quelli che riflettono sul diritto, però appunto la realtà atenese aveva determinate esigenze, si potrebbe dire, sulla base della sua realtà democratica. Che certo non è una democrazia definibile piena come siamo abituati oggi, perché c'erano le donne che non avevano diritti politici, c'erano gli schiavi per esempio, che venivano spesso utilizzati nell'attività agricola e non avevano alcun tipo di diritto, erano in pratica proprietà del padrone. Però questo è un altro punto importante da delineare. Oltretutto non dobbiamo mai dimenticarci che, questo è il terzo punto, all'interno della realtà atenese c'erano anche filospartani, che spesso, comunque sia talvolta, erano aristocratici. Perché? Perché gli stessi aristocratici erano andati contro le dinamiche della democrazia reale intesa da Pericle, o comunque sia anche dal suo successore appunto Clistene, che aveva sviluppato questo tipo di politica per arrangiare diversi ceti facendosi arrangiare nel senso abituare diversi ceti a convivere tra loro, vicini a loro. Questo pure è il realismo giuridico, cioè la democrazia atenese non è che si fonda solamente sul fatto che noi possiamo andare ad alzare la mano e in questo senso argomentare o comunque criticare, no. C'è anche proprio il fatto che la popolazione a un certo punto cominciò a normalizzare il tema del poter criticare. Cioè, capite bene ragazzi che nell'età arcaica non era normale che un non aristocratico potesse argomentare contro un aristocratico. Successivamente questo accadde in Atene. Questo fu normalizzazione da parte di Clistene e non è un caso, attenzione a un altro punto, che gli stessi aristocratici in certo qual modo fecero questa normalizzazione. Clistene era un aristocratico, Pericle era un aristocratico. Vuoi o non vuoi queste riforme sono fatte più o meno da questi aristocratici. Gli aristocratici vengono presi in considerazione e la critica di Platone perciò si rifà anche al tema, tra l'altro spesso anche da Aristofane, sul tema dei dibattiti interi nella stessa Atene. Cioè, la crisi atenese come in vero crisi prodotta dalla guerra del Peloponneso, che tuttavia era stata decisa in certo modo, dico, sulla base di dibattiti interni. E gli stessi atenesi, così come, attenzione, avevano ucciso Socrate, cioè la democrazia atenese aveva ucciso Socrate, e Platone critica questo come definitiva degenerazione della democrazia. Così la democrazia atenese aveva deciso di, sulla base appunto del Consiglio di Alcibia, del Consiglio Infine dei Conti sbagliato, ma lo seguì, di, o meglio proposta se vogliamo, di mandare la flotta in Sicilia. Ma la democrazia decise, non un tiranno. La democrazia, questo ce lo dice lunga sul tema anche del tema e del rapporto, per esempio, tra il dibattito interno, che ci poteva essere tra aristocratici, non aristocratici, ceto medio, nulla tenenti, eccetera. Ecco perché tutto ciò è rilevante. Tutti questi punti sono la premessa della critica di Platone, nonché l'ultimo punto è propriamente quello del fatto che Platone critica Pericle, perché per lui, in realtà, ostentava la ricchezza in modo indiretto senza palesarla, quindi corrompendo i costumi della città. È un po' simile alla stessa critica che, molto tempo dopo, in un contesto totalmente diverso da quello romano, farà Tito Livio sulla base del fatto che, secondo lui, secondo Livio, l'impero romano è arrivato perché si sono corrotti i costumi di Roma. Sono periodi storici diversi perché sono appunto 400 anni dopo Platone, però tant'è, cioè la cosa interessante perché ci fa riferimento su una stessa modalità, cioè per quanto Roma avesse poi creato il diritto, le preoccupazioni, attenzione, tornavano, tornavano in modo importante. E quindi queste sono le premesse di Platone. Un Platone che a un certo punto vede la morte di Socrate come condizione più importante di tutte per scrivere poi le sue critiche alla democrazia, ma che poi in realtà sono state, se vogliamo, fagocitate dal periodo della guerra del Peloponneso, dove lui poi era un giovane ragazzo. E che si porta poi anche in tutta la sua filosofia e anche nei tre viaggi in Sicilia che fa sulla base appunto del suo patrimonio culturale atteniese, ma anche su quello che ha visto nella guerra del Peloponneso. Questo è un po' diciamo il tipo di panoramica che abbiamo ed ecco perché la critica che Platone fa alla democrazia è una critica per molti versi sensata, ma deve essere particolarizzata in questo periodo storico, che è quello appunto che va in fin dei conti, da un periodo che vede in realtà Platone non ancora nato, che è quando in realtà Peric ha preso il potere. E vede questo periodo storico che è poi dilagnato dal 431 fino al 404 avanti Cristo dalla guerra del Peloponneso, che poi vede la stessa Atene e poi successivamente ancora dilagnata dalle sue conseguenze, nonché anche una crisi di stampo economico pratico. Cioè se Atene aveva sempre dominato con l'economia sul mare, a un certo punto deve ritrattare la sua egemonia economica sulla base del fatto che aveva sbagliato a fare la guerra. O attenzione, più che sbagliato magari, nel senso ovvio che aveva sbagliato a fare la guerra, ma poi a un certo punto aveva preso le decisioni sbagliate nella guerra. Ma sono scelte democratiche, cioè scelte di chi aveva diritto che poi ha fatto sì che succedessero certe cose. E da qui poi arriva la critica di Platone al tema del populismo e alle conseguenze che portarono anche all'avvento dei 30 tiranni, per esempio a Crizia che era anche suo parente, parente di Platone. Tutto ciò è interessante perché ci fa riflettere rispetto a quest'area che è l'area dell'Attica o specificatamente di Atene. Che comunque sia una storia particolare perché per quanto in Grecia non sia mai nato il diritto in sé per sé come diritto per esempio di Romani, i Romani li giure consulti, per esempio della codificazione eccetera, anche il policentrismo greco. Però è interessante perché la stessa Atene si deve ritrovare in un periodo che è un periodo di stampo totalmente politico, un periodo di decisioni radicalmente politiche che poi hanno conseguenze di stampo politico e anche economico e che peraltro spesso contraddicevano anche la stessa impostazione economica della stessa città di Atene che poi con l'egemonia del Pireo, attraverso il Pireo del Porto, è riuscita quindi a svilupparsi in senso economico. Ciao.